sta succedendo roba non capisco dove quando perché fermo 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 di al cambio di fermarsi si lo so che c'è un nemico li e per questo detto detto di fermarti para irla non si ferma guarda si è spostato spostato casa lo stato c'è un camion angelo si è messi male angelo si è messi male molto male no per te no ma porco alla fine angelo alla fine la fine angelo alla fine lascia andare lascia andare lascia andare lascia tutto addio sono morto prima io e che vuoi tu sei ancora vivo si ma ti pare che stai qui mi rianimano non possono neanche uscire se per questo addio angelo morto malissimo io spero di vincirla eh sì arrivato lì rimangono sei e sono tutti a piedi praticamente bene abbiamo un cazzo di carro armato va bene un carro armato fumante ti vorrei ricordare abbiamo meno di metà lì c'è quasi metà vita e va beh più di metà vita persa però che fa che fa si deve muovere ma la mira alla zona sicura la mira non ce l'ha dai parli fuori ovvia è uno quanta cattiveria madonna fa fagli male ma è lì ma è lì ma piglia ma capì no fagli malissimo quante 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 ne rimangono due cazza fine dai su via io voglio oh via abbiamo vinto abbiamo vinto angelo abbiamo vinto san morte ma abbiamo vinto quanto ignorante oh raga su via a davola da pigliarlo aspettarlo per lo meno dove mira dove mira ma dove sta mirando e dietro sparata attraverso il muro ma dove non lo vedono abbiamo il cazzo di dire a dire andare sopra e niente no 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 se la perdiamo ovvia vai viola e lì e lì attraverso il muro no no lo aspettano lo aspettano lo aspettano guarda guarda carta lo aspettano lo aspettano fuori lo aspettano fuori lo aspettano fuori guarda come si muove guarda come si muove guarda qua 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 satanissi si è mori mori su via alleluia abbiamo vinto vittoria warzone mamma mia che bella first try madafaka ah ma tu di questa qui vale come vittoria warzone madonna c'è 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 ma dico io c'è 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 madonna santissima c'è con l'anime i canadese dio e niente e niente mandi rotti è tutto 3 kill così grazie grazie